Ciao a tutti, sono sempre Antonio, sempre dalla sede di Dotolo Mobili a Passo di Mirabelle Clano. Oggi sono qui per presentarvi l'ultima arrivata nel nostro showroom, che è la cucina modello Metropolis di Stosa Cucine. Abbiamo scelto di inserire una tipologia di cucina totalmente attuale, in linea con quelle che sono le richieste e le esigenze di questo periodo storico, del 2022. Le gole e gli zoccoli sono interamente in bronzo, ovviamente da questa parte l'isola abbiamo inserito un sistema ribalta per favorirne la capacità contenitiva, così come possiamo dare la gola in bronzo molto 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 bella. La particolarità inoltre di questa cucina è la possibilità di avere due sistemi di apertura contemporaneamente, quindi il sistema gola che potete vedere su questa parte interna dell'isola, oppure il sistema maniglia. Come potete vedere su quest'altro lato della cucina. In questo caso, questa è la lavastoviglia all'interno di una cassa da 75 cm, quindi un nuovo sistema di inserimento per la lavastoviglia, che consente, diciamo, di poter tenere vicino qualche detersivo o qualcosa che si utilizza per la lavastoviglia. Per creare linearità e simmetria con la lavastoviglia 75 cm, naturalmente abbiamo inserito in forno della stessa identica larghezza, quindi sempre da 75 cm, e in aggiunta anche il frigorifero, sempre da 75 cm. L'inserimento del piano in neolit color calagatta ci ha consentito inoltre di inserire questo lavello sottotop totalmente in acciaio dorato della Foster. Per abbinare a questo meraviglioso piano cottura nero della Foster Filotop una cappa di altrettanto valore, abbiamo scelto questa della Falmec, interamente in vetro temperato nero, con i comandi touch. spero che la coltina vi sia piaciuta, vi aspetto qui in mostra per vedere questa e tutte le altre novità.